un carissimo saluto a tutti voi che vi siete fermati su questo video messaggio oggi faccio questa riflessione per rispondere a una sorella che mi ha scritto in privato e mi ha fatto una domanda e la domanda è come possiamo ubbidire a dio e dai suoi comandamenti vivendo con dei familiari non convertiti cioè praticamente la sorella qui mi chiedeva come posso ubbidire ai comandamenti del signore vivendo con delle persone che non lo conoscono credo che sia una domanda molto molto importante che fa anche onore al signore perché esprime il desiderio di voler essere di buona testimonianza nella famiglia dove ci sono delle persone non convertite molti di noi ci troviamo in famiglie dove non tutti sono credenti quindi anch'io vi parlo per esperienza vissuta quindi oggi vorrei provare a rispondere a questa domanda e lo vorrei fare iniziando a leggere un verso della scrittura nella lettera di tito capitolo 3 al versetto capitolo 3 versetto 3 dice così l'apostolo paolo scrivendo a tito perché anche noi un tempo eravamo insensati ribelli traviati schiavi di ogni sorta di passione di piaceri vivendo nella cattiveria nell'invidia odiosi e odiandoci a vicenda ecco voluto leggere questo passo della scrittura perché credo che ci possa essere di grande aiuto per rispondere alla domanda che mi faceva la sorella qui l'apostolo paolo parlando con tito dice anche noi un tempo eravamo odiosi schiavi delle passioni e usa un termine molto molto importante per questa nostra riflessione dice eravamo insensati ribelli e traviati ecco la parola insensato ci fa capire che è qualcuno che non ha il senso delle cose non capisce ed eravamo anche noi così dice l'apostolo paolo quindi per poter rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare sempre per poter capire come comportarci con i nostri familiari non convertiti dobbiamo sempre ricordarci che siamo di fronte a delle persone insensate che non è un termine offensivo non si vuole dire che sono persone sciocche o stupide attenzione qui si parla nell'aspetto spirituale quindi insensati nelle cose di dio non conoscono dio e allora dobbiamo sempre ricordare che i nostri familiari che non conoscono il signore non possono capire certe cose fino a quando non aprono il loro cuore al signore non possono capire le cose che noi diciamo per questo motivo noi spesso veniamo etichettati come pazzi vi siete mai chiesti perché tra credenti ci comprendiamo al volo e con i non credenti facciamo fatica a farci capire è perché i credenti hanno vissuto la stessa esperienza di fede hanno lo stesso spirito gli stessi desideri e leggono la scrittura quindi quando ci troviamo di fronte ai nostri familiari che non conoscono il signore ecco non dobbiamo assumere un atteggiamento né di superiorità nei loro confronti perché non siamo superiori a nessuno dal punto di vista umano dice l'apostolo paolo eravamo come loro noi eravamo come loro adesso se abbiamo diciamo se non siamo più come loro perché abbiamo aperto il cuore al signore il signore ci ha fatto grazia e abbiamo conosciuto la verità però non dobbiamo mai dimenticare che eravamo come loro perché il ricordare che eravamo come loro ci aiuta ad avere comprensione ci aiuta ad avere un cuore compassionevole un cuore misericordioso noi dobbiamo sempre avere un cuore pieno di misericordia nei confronti dei nostri familiari non convertiti anche nei confronti dei nostri nemici e dobbiamo sempre ricordare chi c'è dietro alle loro macchinazioni allora noi sappiamo benissimo io tempo fa feci un post su facebook intitolato come amare i nostri nemici e questo è impossibile amare i nostri nemici ma può essere possibile solo se ci ricordiamo che dietro ai nostri nemici c'è il nemico numero uno che li strumentalizza e allora dobbiamo provare compassione per queste persone sono schiavi schiavi del nemico qui l'apostolo paolo parla di schiavitù vivendo e parla di schiavi di ogni sorta di passione di piacere vivendo nella cattiveria nell'invidia eravamo questi noi eravamo persone che vivevano nella cattiveria e nell'invidia uguale a come quelli che non conoscono dio oggi quindi ricordiamoci chi eravamo e riusciremo una volta che ricordiamo allora riusciamo anche ad avere la giusta attitudine il giusto atteggiamento nei confronti di chi non conosce il signore che deve essere ripeto un atteggiamento di misericordia di compassione e di preghiera per noi umanamente parlando è impossibile amare i nostri nemici eppure il signore ci dice di farlo ma noi non riusciamo a farlo allora la via qual è il segreto qual è per amare i nostri nemici è proprio quello di lasciar vivere cristo in noi e ritorniamo sempre lì perché la chiave della vita cristiana e allora mi avvio alla conclusione provando a rispondere a questa cara sorella ecco noi possiamo ubbidire i comandamenti di dio e dopo vedremo come solamente possiamo convivere in armonia nella pace con i nostri familiari non convertiti solamente se ricordiamo che loro sono ciechi sono ciechi noi possiamo dire poi puoi dire un cieco guarda che bella giornata di sole oggi guarda come è colorato quel fiore non lo vede ed è per questo che dobbiamo avere compassione e misericordia nei confronti dei nostri familiari non convertiti che non significa sempre diciamo così diciamo così essere accondiscendenti o fare quello che loro ci dicono di fare no noi siamo chiamati ad essere una testimonianza facendo anche le cose contrarie a quelle che loro fanno perché solo così che potremo essere luce in casa nostra ma non dobbiamo arrivare mai allo scontro però perché ci troviamo di fronte a persone insensate che non hanno il senso delle cose di dio e tali dice l'apostolo paolo eravamo anche noi ricordiamoci che eravamo e allora possiamo avere un cuore per coloro che abbiamo di fronte che sono come eravamo noi un tempo e vi parlo per esperienza perché vivo in famiglia dove non siamo tutti credenti e io sono chiamato ad essere una luce e posso essere una luce e una testimonianza vivendo secondo gli insegnamenti del signore ma ricordando sempre che coloro che sono con me certe cose non possono comprenderle fino a quando non aprono il cuore al signore e allora avrò la pazienza allora riuscirò a rispondere con un sorriso quando vengo preso in giro riuscirò a rispondere con un sorriso quando vengo provocato ricordando che anch'io una volta era così e il ricordare che una volta ero così anch'io deve suscitare in me oltre alla misericordia la compassione deve suscitare in me un cuore riconoscente verso il signore perché se io oggi non sono più insensato non è perché sono stato bravo o perché sono stato migliore degli altri ma semplicemente perché ho aperto il cuore al cuore al signore ed egli ci rende migliori perché vive dentro di noi la sua presenza in noi ci rende diversi ma dobbiamo sempre avere quel cuore misericordioso che aveva il nostro signore gesù il signore gesù quando incontrò la samaritana ebbe misericordia nei confronti di questa donna e dobbiamo imparare anche noi dobbiamo ricordare che se le nostre mogli non sono convertiti e remono contro di noi pur amandoci ecco non sono loro è il nemico che li strumentalizza è il nemico che si serve di loro per fare guerra a noi e allora se comprendiamo questo quando nostra moglie o nostro marito nostro padre nostra madre nostro fratello ci remerà contro li guarderemo con un occhio di compassione di misericordia sapendo che dietro di loro che non sono loro in quel momento non è la cattiveria di mia moglie che mi sta remando contro di mio marito di mio padre di mia madre ma il nemico che li sta strumentalizzando per farci guerra e il signore lo permette per metterci alla prova il signore permette questa incomprensione in casa nostra perché è in quei momenti lì che vuole vivere dentro di noi e manifestare la diversità tra noi e loro manifestare la sua vita attraverso di noi e quindi se noi impariamo a ricordare chi eravamo insensati pieni di cattiveria e di invidia questi eravamo noi se non dimentichiamo mai questo allora riusciremo anche a guardare i nostri familiari non convertiti con un occhio di misericordia e di compassione arriviamo adesso alla risposta della domanda come posso ubbidire ai suoi comandamenti bene il signore ci chiede proprio di mettere in pratica i suoi comandamenti in quelle situazioni familiari difficili ed è in quei momenti lì che siamo chiamati proprio all'obbedienza al signore e l'obbedienza al signore ci dice di appunto quello che abbiamo detto prima di non dimenticare chi eravamo il signore ci dice nei suoi comandamenti di amare i nostri nemici in quel momento se mio padre rema contro la mia fede o mia madre o mio familiare mia moglie mio marito mio figlio chiunque possa essere è in quel momento lì che sono chiamato a obbedire al comandamenti del signore uno di questi è proprio quello di amare i nostri nemici allora signore io non ci riesco io non sono capace di amare i miei nemici e allora ecco che bisogna che noi ci facciamo sostituire dalla sua vita in noi signore io non sono capace fallo tu attraverso di me perché la mia carne il mio orgoglio la mia natura porta mi porta arribe alla ribellione mi porta alla discussione e allora quando egli vive in noi ecco che noi riusciamo poi ad amare anche ciò che non è amabile e qui bisogna proprio lasciarsi sostituire dal signore signore vivi tu dentro di me affinché io possa amare mia moglie che in questo momento mi sta perseguitando spiritualmente affinché io possa amare mio marito mio padre mio fratello questo mio parente che mi sta perseguitando dobbiamo avere misericordia quando ci prendono in giro quando si fanno beffe di noi sapeste quante beffe si sono fatti anche su di me da quando pubblico i video messaggi ma è gente cieca è gente che è insensata e mi metto a discutere con un insensato se io discuto con un insensato manifesto a mia volta di essere insensato proprio perché ho ricevuto una luce da parte di dio ecco non devo arrivare alla discussione con l'insensato ma devo comprenderlo ho di fronte a me un cieco ho di fronte a me una persona che non può capire e allora ecco che quando questo si realizza nella nostra vita riusciamo a convivere con i nostri familiari non convertiti che ripeto non significa che per amor di pace io faccio io cado nella mondanità per non contrariare il mio familiare inconvertito no io sono chiamato all'ubbidienza ma non devo neanche arrivare a scontrarmi con mio familiare inconvertito perché ripeto devo ricordare che lui non può capire in quel momento ma la mia testimonianza fatta con misericordia con pazienza e con compassione può essere una testimonianza che può portare quel mio familiare non convertito alla fede il signore pensate che non sa che in casa nostra ci sono dei familiari non convertiti certo che lo sa e il desiderio del signore che tutti giungano alla salvezza però il signore può permettere delle situazioni dove noi ci troviamo con delle persone non convertite in casa per lungo tempo e io aspetto da anni la conversione dei miei familiari proprio perché attraverso quelle situazioni diciamo così quei matrimoni misti dove il marito è credento viceversa ecco il signore è proprio in quelle situazioni che vuole crescere nella nostra vita che vuole sostituirsi a noi per essere una luce in casa nostra e allora dio sa vedete avere dei familiari non convertiti come scrivevo in un altro posto può essere una benedizione perché noi non avendo una moglie o un marito che prega insieme a noi siamo chiamati a pregare per due quindi il doppio quindi vuol dire perdere più tempo in preghiera stare più tempo alla presenza di dio e questo comporta delle benedizioni maggiori ma questo è un altro argomento allora arrivo alla conclusione come posso mettere in pratica la parola di dio perché in altre parole la sorella diceva come ubbidire a dio e ai suoi comandamenti vivendo con familiari non convertiti in altre parole possiamo dire come posso mettere in pratica la parola di dio in una casa dove ciò dei familiari non convertiti bene è proprio lì che il signore ci chiama a mettere in pratica la sua parola proprio avendo in casa dei familiari non convertiti è proprio lì che egli vuole emergere vuole crescere in noi vuole manifestarsi in noi è l'unico modo fratelli e sorelle e vado alla conclusione per poter mettere in pratica i comandamenti di dio in una famiglia dove non ci sono altri credenti l'unico modo è quello di lasciar vivere cristo in noi noi non siamo capaci di mettere in pratica i comandamenti di dio non ci riusciamo soltanto se cristo vive in noi noi possiamo mettere in pratica quello che egli stesso comanda e quando egli vive in noi che cosa succede succede che quello che sta scritto nella nella lettera ai galati capitolo 5 verso 22 sta scritto che quando il signore che vive dimora in noi 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 sperimentiamo il frutto dello spirito e qual è il frutto dello spirito e amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo noi abbiamo bisogno di queste cose per poter mettere in pratica la parola di dio in una famiglia in una famiglia dove ci sono membri non convertiti abbiamo bisogno della pazienza che è un sapore del frutto dello spirito abbiamo bisogno di mansuetudine bontà misericordia è tanta tanta pazienza e la pazienza è uno di questi sapori vedete al primo paolo elenca l'amore poi la gioia quindi io posso vivere anche nella gioia pur avendo dei familiari non convertiti quando cristo è la mia gioia la mia gioia diventa una gioia che non cambia pace io devo sperimentare la pace di dio nel mio cuore una pace che poi posso trasmettere ai miei familiari non convertiti e poi dice la pazienza e senza pazienza come possiamo convivere con dei familiari che non conoscono il signore arriveremo allo scontro in ogni momento della nostra giornata benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo ecco l'autocontrollo l'autocontrollo è uno dei sapori del frutto dello spirito e noi credenti non possiamo farne a meno soprattutto quando viviamo con dei familiari non convertiti vedete il frutto dello spirito sapete che cosa rappresenta rappresenta il carattere del signore gesù egli è così egli è amore gioia pazienza benevolenza ma suetudine autocontrollo il frutto dello spirito ci parla del carattere di gesù e allora cara sorella rispondo a te e a tutti coloro che sono interessati a questo argomento come possiamo obbedire ai comandamenti di dio vivendo con dei familiari non convertiti lasciando vivere cristo in noi e allora e si manifesterà il frutto dello spirito e allora con quel frutto dello spirito noi potremo poi convivere avendo pazienza mansuetudine autocontrollo e attraverso il carattere di gesù che noi possiamo ubbidire ai comandamenti di dio ricordate che il frutto dello spirito rappresenta il carattere di gesù noi abbiamo bisogno del carattere di gesù abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno che egli viva in noi e allora ubbidiremo sicuramente ai comandamenti di dio e allora sicuramente quando egli vive in noi possiamo essere una testimonianza in casa nostra una testimonianza efficace una testimonianza che si basa sull'autocontrollo sulla pazienza sulla fiducia sulla benevolenza sulla mansuetudine sull'amore e sulla gioia quella gioia ripeto che rappresenta proprio la presenza di gesù dentro di noi concludo questa mia riflessione che che non doveva superare i sette otto minuti così mero prefisso ma poi come sappiamo il signore ci mette in bocca delle parole che non possiamo fare a meno di dire spero di aver risposto a questa sorella e vi assicuro che questa riflessione ha fatto un gran bene anche a me perché vivendo in una famiglia dove non tutti sono credenti ho bisogno proprio del carattere di gesù per poter dare una testimonianza efficace quindi lasciamoci guidare dallo spirito solamente lasciandoci guidare dallo spirito solamente lasciando agire lo spirito santo in noi noi potremo manifestare il frutto dello spirito che ripeto è il carattere del signore gesù noi abbiamo bisogno di lui perché senza di lui come abbiamo detto tante altre volte non possiamo fare proprio un bel niente sia benedetto il nome del signore e grazie a tutti voi per la vostra attenzione attenzione